Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle Eggworks Oggi sono qui da solo appunto su Zephyr di Cubecraft Però, oddio, qua c'è un player lezzo Ma chi è? Oh mio Dio! Ma c'è anche Eren! Ah, ciao Metano, sei anche tu qui? Ma ciao! Ma quindi siamo in due? Ma no, ma... Ah sì, va bene, possiamo giocare Ma chi è questo? Ma lì c'è Tirless anche Ma c'è un maniaco che si spoglia Ragazzi, ma se stavo spogliando Ma che schifo, ma se stavo spogliando Ma è bruttissimo questo personaggio Infatti, rivestiti che se no, guarda, mi si scandalizzano gli iscritti Ma c'hai le braghi fino alla scelle, poi non te lo vorrei dire Lascia fare, sto fando di moda Veramente Tirless, con quella faccia sei veramente brutto però Se vuoi la cambio Comunque, sto lasciando queste lezzate, ragazzi Appunto, andremo a fare Eggworks con questi due lezzi Quindi ci arriviamo in partita E cosa cavolo sei diventato, Tirless? Sono Buzz Light, Tirless Raptor No, no, sembra uno stupratore con quegli occhi e quelli sopraccigli alzati Mi spiace di me Allora fa paura Allora diventa una torta, basta Ok ragazzi, eccoci in partita Siamo nella campagna Fearground E' la prima volta che la porto sul canale Quindi speriamo ci vada bene Edè, edè Io mi sono già incastriato Ma ha già rubato i blocchi Tearless Ma cosa vuoi? Tearless schifo Ho upgradeato un generatore, cosa pulite? Ops Di montareggio Ha già fatto un upgrade? Sì, da questa parte sì, dall'altra non ancora E lo faccio io subito, guarda Non basteranno Non basteranno 46 Per caso hai dell'oro, Tirless? Ne ho uno Eh, non lo voglio Mi rifaccio un po' altri blocchi Quanto ne serve? Cinque No, ne serve dieci? Non cinque No, cinque per attivarlo Ah, cinque, oddio Allora lo faccio subito Pensavo ne servisse dieci Ero rimasto un po' Ah, di qua serve dieci, ok Sì Eh, perché uno era ancora spento Ottimo Ok Ok, parto Parto Va bene, addio È stato bello Io intanto mi faccio un minimo d'armatura Una spada o qualcosa, eh Esatto Anch'io sto qua Così Mentre se Eren va al centro Se qualcuno rusha Perlomeno Forse Riusciamo a fermarlo Forse Tra l'altro magari Facciamo il ponte tra le risorse E il villager Che potrebbe Sono caduto Sono caduto Vai Tirless Fai pure il tattico della situazione Faccio io Faccio io Faccio io Ragazzi Ha felato lo shift Non ci posso far niente Che beh Ha preso danno? Eh no Io che faccio un po' il pazzo E mi lancio ogni tanto Vai vai tranquillo Mi diverto a fare così Ok Posso potenziare anche l'altro ora Sono connessi direttamente ai gialli quindi Ok Ragazzi È tutto potenziato quasi al massimo Praticamente Allora mi metto a bardare Con lo sguardo Io mi muovo ad andare di nuovo al centro Perché Che pallo Ero shiftato E di colpo sono caduto Mi sa che è stato forse un colpettino di lag Eh sì Se ti tira una laggatina Lo shift non conta niente Perché io non l'ho mollato lo shift Quindi mi sa che ha laggato un pelino Ok Allora io mi sono fatto tutta l'armatura Ha distrutto il secondo uo Mamma mia Con che cattiveria Ah già l'uovo così Se ne va Eh sì perché la gente qua Rascia da un'isola all'altra Infatti Allora Noi siamo a posto Ti resta una cosa Io ho preso un pochettino Doro se non ti dispiace Mi faccio delle mene dorate Sì vai vai E poi Provo Non dico a rasciare Ma A fare il lezzo Con qualcuno Vediamo Va bene Tanto io sto qua E bardo tutto l'uovo Eh ragazzi C'è un botto di diamante qua Eh Appena ce l'hai torna indietro Ok allora Vengo al centro io eh Sì aspetta che chiudo un attimino qua la via Così non possono salire Allora Ci sono rimasti I rossi I verdi E i ciano Solo? I rossi non si sono ancora collegati al centro Quindi non ci provo Oh ma i rossi è soltanto uno I rossi sono andati giù ragazzi Incredibile Sono lasciando la bestia proprio Quanto diamante che c'è qua Madonna Eh io ne ho già preso dieci Fai te Allora senti Io scendo Perché ho visto che il rosso è rimasto Cioè da solo Quindi lo posso lasciare abbastanza easy Sì Però c'ho un pochettino di paura nello scendere qua Eh Non hai bisogno Non prendere l'oro Almeno che non ti serva Eh Faccio una cesta Ok Allora tranquillo Tranquillo Ok Io mi mangio una melina davanti a lui Perché io posso Te lo droppo giù Una melina? Una melina Vabbè Ragazzi lui Attenti che fosse venire da noi eh L'ho visto che praticamente che saliva Però io me ne sbatto di lui Perché non ha capito nulla della vita Sì Sta arrivando da noi Il rosso? Eh ma Devo andare No 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 Devo Soltanto Non serve Ma sta arrivando Sta arrivando Tir Ragazzi uccidetelo Io sono da lui eh Uccidetelo però Metto lo sidano attorno Tanto non fa in tempo Ce l'avete fatto L'ho buttato giù L'ho buttato giù L'ho buttato giù Sono caduto anche io ma l'ho buttato giù Perfetto Li spacco il letto C'è il letto L'uovo ora Vai vai spacca spacca Olè Ok Hola E lui dov'è Perfetto E lui dov'è? Eccolo No no Qual è il villager Ok Non so Lui l'ho buttato giù Ah è morto proprio È spaccato mentre cadeva Ah è morto proprio tutto Ok Ragazzi I verdi E i ciano Sono rimasti eh Ma che velocità Il corso più veloce del mondo Non lo so Non è dato niente Torna al centro eh E adesso secondo me La situazione si farà un po' più complessa però eh Beh guarda ti dirò Non è detto comunque Non è detto Perché magari sono lezzi E non se la giocano bene Magari sono anche scazzati Non lo so Allora vediamo Io Un occhio lo butto lì Preparando un po' i diamanti I verdi sono là E non sono collegati al centro I diamanti li hai presi te Eh Sì in attimo volevo upgradeare Eh vieni subito Eh No dammi Quelli che c'hai Ah ragazzi Ma Vi spiego tutta la situazione come è ora Praticamente I verdi sono collegati ai viola I ciano sono collegati ai viola I viola sono collegati al centro E così loro che possono venire Ok Ok è un po' un casino Sì sono lontanissimi praticamente Per fare un giro impensabile Ah no 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 I ciano sono collegati ai gialli Non ai viola Cosa ho detto I gialli dove sono rispetto a noi? Eh Dall'altra parte Tu adesso dovresti prendere Allora il ciano è uno senza uovo Dobbiamo prendere i verdi Che sono rimasti in due tra l'altro Ah Io sono dal ciano praticamente Io ti dico solo che adesso Ho preso altri dieci diamanti Dalla nostra fonte privata al centro Quella più è nostra Quella super L'ho vista Era tipo piena di diamanti Madonna E' una roba struppina E' nostra Sì sì è ovvio ovvio Rateniamo uno di questo Infatti ci sono altri diamanti Bene Eh 17 Quanti mi servono? No posso arrivare da qua Da qua e da qua Ok ragazzi Io potrei andare dal ciano Ma me la prendo con calma Perché vorrei farmi prima Una spara in diamante Che mi sembra Ad obbligo appunto Per ucciderlo Vai vai ci sta Sta arrivando il verde Sta arrivando il verde Tirla so Ce la fate a fermarlo? No E' qui Tranquillo Tanto c'è l'ossidiana Torna ovunque Non ha nulla Ma al di là di quello C'è l'ossidiana ovunque Ok Col piccone di pietra Non va da nessuno No gli ho visto una pozione Non sapevo se aveva tipo forze Invece era forse jump Sono dal jump ragazzi Lo vedo E di spalle Non mi ha visto Dai killalo Killalo Ok ora mi ha visto Che ti vedi alle spalle Dai Diamante al massimo Buono Ok ucciso ucciso Ragazzi la spalla in diamante E il devasto totale Ok siamo rimasti 3 contro 2 Arancioni contro verdi Guarda un verde L'ho appena ucciso io E quindi Quindi il rascimento Ci sta via No l'ha ucciso Tearless Vabbè L'ho ucciso non importa Pensavo Pensavo l'avessi ucciso un altro Per quello No no Allora ragazzi Mi collego da loro Ehm vai Se puoi direttamente No 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 Oddio Ragazzi Mi sono visto volare Vi giuro Ho volato per un secondo Ho volato Stavo cadendo C'è questo esatto Metano Stavo volare No bimbi Non vi riesco Ok il verde è qua Il verde è qua Ok Ora l'uccido questo qua Forse Dov'è Eccolo qui Ah il metano Sì ma insomma Sono troppo meglio rispetto a lui C'ho la spalla potentissima Cavolo Ragazzi la spalla in diamante Ripeto il devasto Quanto diamante abbiamo Che aprile diamo ancora loro Ok si upgradeo l'oro Allora Ah vai Sì Ok un verde È tornato all'attacco È andato dal viola Ok Il prossimo diamante Lo Ci faccio un arco Così sto a presa Vabbè ma io non so cosa voglia fare lui Perché ragazzi Ha fatto un coso strano E praticamente non mi sta cagando ora Io me ne vado Cioè vado nella sua isola Eh certo Ci mancherebbe altro Onesto via Ma sono armati questi Sì sì c'è uno che di nuovo dal viola Ed è armato Forse viene al centro Quindi state attenti E lo ignoro completamente Perché vado a spaccare tutto io Qua al centro ci sono altri dieci diamanti ancora Sì ragazzi ma vabbè Non importa nemmeno a questo punto Cioè Ma io adesso Mi faccio l'arc Così difendo Ragazzi c'è questo qui Poverino Nemmeno lo cago Vado qui Lì spacco direttamente tutto Olè Ma è andato tutto Ciao Ok ucciso Ne manca soltanto uno ragazzi Dovrebbe essere dei viola Vabbè Meglio stare sicuri Vabbè Ragazzi vi ripeto O dei viola O al centro È l'ultimo A questo punto La faccio artistica La partitura Artistica Ok lo vedo Lo vedo E ancora dei viola A questo punto ci vado io E Speriamo in bene Con i finali loro No stanno andando al centro Stanno andando al centro Guarda io mi metto È rimasto sul ponte Non so cosa faccio ragazzi In mezzo al ponte Prova l'uccidermi questo qua L'ho ballato in maniera artistica E lo uccide Ragazzi Ah è finita È finita GG Vabbè Ok Un Egg Wars Rapidissimo Mamma mia Ok Danne o strage Uovo all'occhio di bue Quindi ragazzi Questa qui penso sia stata Una delle Egg Wars Forse anzi La Egg Wars più veloce Che abbia mai fatto Sul mio canale Infatti è durata tipo 8 minuti E qualcosa Una roba assurda Poi si sono anche scannate Tra di loro Quindi come cosa In effetti ci stava Comunque I canali di questi due lezzi Li trovate come al solito In descrizione Spero che il video vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao a tutti Io ero qui nascosto Non mi ha visto nessuno mai Nella vita Mio dio non ti avevo visto Nascosto benissimo Sono troppo bravo Ninja Ninja Bungut